Missili contro le basi USA in Iraq. La risposta iraniana all'uccisione del generale Soleimani non si è fatta attendere. Le guardie della rivoluzione islamica fanno sapere che è iniziata la vendetta. Un monito, un presagio di nuovi attacchi ed invitano a ritirare le forze. Intanto sale il livello di guardie attorno alla base americana a Vicenza, che già nei giorni scorsi, dopo l'uccisione del generale, avevano visto partire e di fatto schierare nei territori di guerra alcuni contingenti. Il rischio dell'escalation della tensione è nell'aria, anche se al momento tutto sembra concentrarsi al di là del Mediterraneo, ma la preoccupazione è palpabile. Inevitabile che un po' di tensione ci sia. Siamo sicuri che gli americani con le forze dell'ordine italiane stiano lavorando per garantire la massima sicurezza in città. Ci sono anche, penso, delle riunioni a brevissimo in queste ore, proprio per coordinarsi da questo punto di vista. All'esterno della caserma Ederle tutto sembra continuare come se nulla fosse, mentre si definiscono piani e strategie che porteranno probabilmente alla partenza di altri uomini e alla definizione ancora più stretta della sorveglianza su siti sensibili. Una tensione, quella tra Stati Uniti ed Iran, che apre anche ad un difficile scenario economico per le nostre aziende, con il prezzo del petrolio che schizza le stelle e i mercati in picchiata. Il Medio Oriente è un'area importante anche per l'economia vicentina. Bisogna sicuramente fare in modo che l'Unione Europea si attivi anche per calmirare la situazione, aiutare e contribuire a calmirare la situazione, anche perché ci sono dei risvolti economici, non solo appunto di sicurezza effettivamente.